Replica c'è posta per te 2018 del 17 febbraio su video Mediaset C'è posta per te, replica quinta a puntata 17 febbraio, rivedila su video Mediaset C'è posta per te 2018 ritorna di nuovo in onda dopo la pausa per la sosta dovuta al festival di Sanremo 2018 La scorsa settimana, infatti, il teo play show di Maria De Filippi non è andato in onda per lasciare spazio alla finalissima della carnesse Canora di Rayuno che ha ovviamente fatto il pieno in termini di ascolti conquistando una media superiore a 54% di share e circa 12 milioni di spettatori Ecco chi ci sarà stasera a C'è posta per te 2018 Una scelta decisamente sensata da parte del Bicione, che ha scelto di sospendere la trasmissione di Maria De Filippi per evitare la sfida diretta contro il temuto festival di Sanremo Ma questa sera la trasmissione delle emozioni tornerà in onda nuovamente sul canale 5 con un nuovo appuntamento, il quinto di questa ventunesima stagione di grande successo Milioni e milioni gli spettatori, che ogni settimana seguono le storie raccontate dalla De Filippi, le quali riescono ad arrivare dritte al cuore di coloro che le ascoltano La media di queste prime puntate della nuova edizione è stata di oltre 5.7 milioni di spettatori con uno share del 27% e picchi di oltre il 36% Le anticipazioni riguardanti la nuova puntata di C'è posta per te del 17 febbraio rivelano che anche questa sera nel corso della nuova punata in onda su canale 5 ci saranno dei nuovi personaggi famosi, che faranno delle sorprese a dei fan speciali, che hanno scritto la trasmissione della De Filippi Nel dettaglio vi anticipiamo che in studio arriverà la coppia vincitrice dell'ultima edizione del festival di Sanremo 2018, parliamo di Irmal Meta e Fabrizio Moro, i quali per la prima volta prenderanno parte ad una trasmissione del visione dopo la vittoria alla kermesse musicale di Rai U Streaming c'è posta per te 2018 del 17 febbraio, rivedi la puntata Un'ospitata decisamente molto attesa dal pubblico da casa, che a distanza di sette giorni dalla vittoria della coppia Irmal Meta Fabrizio Moro dal festival di Sanremo avrà la possibilità di rivederli ancora in televisione questa volta però nelle vesti di ospiti della trasmissione di Maria De Filippi, che ha un buonissimo rapporto con entrambi Nel caso in cui stasera 17 febbraio non poteste seguire la quinta puntata di C'è posta perché 2018 in tv, vi ricordiamo che potete rivederla in replica streaming online accedendo al sito web gratuito video mediaset oppure scaricando la tp gratuita per cellulari e tablet Grazie a tutti